Avete verificato che la regione Campania è stata collocata nella zona cosiddetta gialla a fronte di altre regioni collocate in zona arancione e altre in zona rossa, quella della maggiore diffusione del contagio. Questo elemento, questa classificazione ha determinato qualche sorpresa. C'era molta gente che si aspettava una diversa collocazione della regione Campania. Ora, premesso, come vi dirò fra un attimo, che a me le classificazioni non fanno né caldo né freddo, noi ci siamo dati una linea chiara e lavoriamo sulla base di questa linea e degli obiettivi che noi dobbiamo perseguire in Campania. Il governo ha fatto una scelta diversa. Il governo ha detto che seguiamo una linea di proporzionalità, cioè a mano a mano che vediamo crescere il contagio, prendiamo progressivamente misure restrittive. Io credo che questa linea non sia efficace. Ho detto ancora in questi giorni che avrei preferito una linea unitaria di rigore per tutto il Paese. Per essere brutalmente chiari, avrei preferito la chiusura di un mese di tutto perché questo ci avrebbe aiutato a frenare il contagio. I dati finali che riguardano la situazione ospedaliera sono questi. Abbiamo ieri 175 ricoveri in terapia intensiva rispetto a un numero di posti letto di 600. Noi abbiamo raddoppiato rispetto a gennaio i posti di terapia intensiva. Ovviamente non li attiviamo subito tutti e 600 per non impegnare inutilmente il personale. Ma i posti disponibili oggi sono 600 rispetto a 174 ricoveri in terapia intensiva. Fra due mesi avremo 800 posti di terapia intensiva disponibili. Per quanto riguarda i posti letto di degenza, abbiamo complessivamente, fra pubblico e privato, 3.160 posti letto disponibili a fronte di 1.660 ricoveri. Ma si rischia questo paradosso che chi oggi entra in zona rossa, cioè blocca per 15 giorni, poi forse per un mese, le attività, probabilmente si troverà nella condizione di aprire poi le attività economiche da qui a un mese. Chi non è stato collocato in zona rossa, paradossalmente, corre il rischio di dover chiudere tutto nel periodo di Natale e di Capodanno. Per questo dobbiamo essere ancora più attenti. Ancora più attenti, altrimenti rischiamo di chiudere fra un mese. Così come rischiamo di entrare in zona rossa fra una settimana, se immaginiamo di avere comportamenti allegri, disinvolti e non responsabili. Tra una settimana, non ci vuole niente. Vi prego di essere rigorosi. Vi prego di rimanere per quanto più è possibile in casa. Vi prego di comportarvi come se ci fosse il lockdown, anche se non c'è. Anzi, proprio perché oggi abbiamo un po' di respiro in più, vi chiedo di comportarvi come se avessero deciso di chiudere tutto. Facciamo noi questa, diamo noi questa prova di autodisciplina, di spirito civico, di senso di responsabilità. Abbiamo già dimostrato a febbraio, marzo, aprile, di essere capaci di comportarci sulla base di principi di rigore e di responsabilità.